segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te quando d'altronde è una curiosa guerra questa no zelensky parla con tutti i leader si telefonano ogni giorno due ore uno tre ore l'altro poi uno non può dire la sua qui in italia ma siamo fuori allora io no perché qua secondo me siamo un po fuori allora io torno al punto non mi spaventano ma non è roba da copasi e da servizi se riot non è d'accordo con la spinelli glielo dice io non sono d'accordo su tante cose cioè glielo dice allora attenzione bene io torno al tema secondo me di fondo su cui bisogna assolutamente intervenire secondo me anche i presidenti di camere senato deve intervenire perché leggevo l'intervista oggi di d'urso no si dice ma d'altronde anche la golden share l'abbiamo estesa dai temi della sicurezza ai temi delle telecomunicazioni e questo ne consegue che il copasir insegue sulle telecomunicazioni chi che cosa ma stiamo il copasir ha il compito di sorvegliare di vigilare che gli apparati di sicurezza stiano dentro alla costituzione e alle leggi e su questo riferire al parlamento punto quindi non facciano dossier al limite allora aspettate ginevra buon piano